E' una delle città vive più antiche del mondo. Se vive da 8.000 anni in continuità è perché è sempre riuscita a costruire e a realizzare una nuova storia. A domanda quanti anni hanno i sassi, io rispondo sempre i sassi non hanno età. Matera. Al cinema solo il 21, 22 e 23 gennaio. Grazie.